Buongiorno, 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 mi contavo Sandrini, oggi ero sentato su un bel clapp sull'or dal cornapp, io sentivo da urdi me l'age che sbrondulava, con quel rumore che ha le diegno perché l'age va sempre in davanti, 10 mesi, 1 roboni, secchi, e mi dava l'idea proprio della vita che va sempre in davanti e non muro mai, però ieri volta ad avviarsi il chiampone io vedevi che il sorella aveva dentro il sacco, e con la sua ultima luce arrivava sulla specie del mondo grande, e mi è venuto di pensare che tutto il muro. Mi ha applausato questa sensibilità di Sandrini, e io gli ho detto, no perché sono i predi, ma perché è vero, vedo che quel sorella che tu hai veduto morire da urdi il chiampone, tal domani torna a nassi sempre per far slusignare che l'age che dure sempre. Buona giornata e buona vita. Grazie.